musica eccoci e bentornati sul mio canale nuova breaking news su call of duty world war 2 ragazzi fate attenzione perché in queste ore sta facendo il giro della rete una notizia non vera per quanto riguarda un aspetto del multiplayer del nuovo call of duty world war 2 il nuovo capitolo della sledgehammer games di cui ci sarà finalmente la rivelazione del multiplayer alle 3 2017 mancano pochissimi giorni quindi rimanete sintonizzati sul mio canale per tutte le notizie minuto per minuto che cosa è successo partiamo dall'inizio come sapete è stato confermato che all'interno della campagna non ci sarà la rigenerazione della salute quindi bisognerà stare veramente molto attenti e non potremo andare all'attacco frontale dei nostri nemici come accadeva in passato quindi dovremo giocare molto più stealth e molto più coperti nella campagna di call of duty world war 2 ma in quest'ora sembrerebbero che siano apparsi in rete alcuni articoli di alcune anteprime che hanno praticamente a quanto pare riportato notizie sul multiplayer andando a confermare che anche nel comparto multigiocatore del titolo è presente o meglio non è presente la rigenerazione della salute quindi questo significa che neanche nel multiplayer la salute praticamente riaumenta automaticamente come accade in tutti i call of duty che conosciamo bene intervenuta sulla questione charlintel un'importante testata esperta nel settore di call of duty che ha negato la cosa quindi la notizia della mancanza della rigenerazione della salute nel multiplayer è una notizia fake quindi a quanto pare il multigiocatore ma soprattutto la salute dei giocatori dovrebbe essere come in passato quindi una volta che veniamo colpiti e quindi siamo rossi basterà attendere qualche secondo per tornare con la nostra salute al massimo al momento quindi questa notizia della mancanza della rigenerazione della salute nel multiplayer è stata confermata essere una fake quindi state attenti se leggete questa notizia in giro fatemi sapere qui sotto nei commenti che cosa ne pensate e noi ci vediamo con tanti nuovi video